La Total Service risolve i tuoi piccoli e grandi problemi quotidiani. È impresa di pulizie per uffici, capannoni industriali, supermercati, abitazioni private, servizio di giardinaggio, riparazioni infissi. La Total Service effettua anche assistenza ad anziani e disabili. Total Service, telefono 347 30 19 486. Telefoniamo. Corso Ovidio 213 sul Mona. Comunicare per passione. Buonasera gentile pubblico di Diario di Bordo, torna questa sera nei nostri studi, dire la verità dopo qualche anno, il Presidente dell'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo, Stefano Pallotta. Buonasera. Benvenuto Presidente, allora dobbiamo parlare, io direi, cominciamo a parlare proprio del nostro ordine. Una discussione avanzata anche da qualche forza politica che mira a sopprimere, a cancellare l'Ordine dei giornalisti che in questo tempo non godono di tanta popolarità. E invece noi che cosa dobbiamo rispondere a chi chiede a gran forza, per esempio, l'abolizione dell'Ordine dei giornalisti? Innanzitutto che siamo un ordine professionale come i medici, gli architetti, gli avvocati, i notai, i segretari, i comunali. Basta poi questo? No, non basta. Noi alla politica abbiamo avuto occasione di farlo recentemente a Pescara. Alla politica chiediamo una cosa fondamentale, per la verità lo stiamo chiedendo da vent'anni, però la politica è sorda da questo e da quell'altro orecchio anche. Stiamo chiedendo l'istituzione delle facoltà in giornalismo. Noi siamo convinti che tutte le professioni che hanno una ricaduta sociale importante, come quelle che lei citava prima, hanno bisogno di un percorso accademico anche importante. E in modo particolare i giornalisti, che è una professione che ha una ricaduta sociale anche pericolosa, chiediamo alla politica di darci finalmente le facoltà in giornalismo, perché non è concepibile che la nostra professione, adesso estremizzo, ma teoricamente è possibile, si possa accedere a questa professione con la terza media. Adesso io chiedo a lei, ma insomma retoricamente, ma anche ai nostri telespettatori, com'è possibile concepire una professione giornalistica, che è quella notoriamente di mediazione e di semplificazione delle complessità? Come si può semplificare la complessità sociale, economica, politica, culturale, la globalizzazione? Se un giornalista non ha un sufficiente bagaglio culturale e di esperienza, in grado di consentirgli di semplificare e decifrare la complessità, e quindi renderla accessibile e partecipe all'opinione pubblica. Perché poi la cosa fondamentale in una democrazia, perché di questo stiamo parlando, è avere un'opinione pubblica che sia consapevole, cosciente delle scelte che fa. Ecco, se noi non mettiamo i mediatori, i cosiddetti mediatori culturali, perché poi siamo questo fondamentalmente, dei mediatori culturali, non li mettiamo in condizione di spiegare all'opinione pubblica di che cosa stiamo parlando, e allora diventa molto più complesso, e allora ci sono anche problemi di deviazione, ci sono problemi di controinformazione, ci sono problemi di interpretazione sbagliata della realtà. Quindi chiediamo fondamentalmente, stiamo chiedendo questo alla cosa. Dopodiché possiamo discutere dell'abolizione dell'ordine professionale. Nessun ostacolo, nessuna cosa, però prima devono istituire le facoltà in giornalismo. Allora, democratizziamo l'accesso a questa professione, però attenzione, parlare oggi di abolizione dell'ordine senza democratizzare l'accesso alla professione è un errore grandissimo, perché chi oggi regola l'accesso a questa professione, alla professione giornalistica, sono gli editori che assumono i giovani e poi li mandano, assumevano perché adesso non succede più, e poi li mandano a fare l'esame professionale. Per cui è l'editore solitamente chi assume, assume l'amico dell'amico, l'amico del politico, perché in Italia non abbiamo editori puri che vogliono fare profitti con questa professione. Abbiamo editori che usano i nostri giornali come merce di scambio per affari diversi. Quindi, chi lo diceva tanti anni fa, Missiroli, diceva che i bilanci dei nostri giornali sono passivi, ma i bilanci del core business degli editori sono attivi e quindi utilizzano questo sistema dei giornali, dei quotidiani, ma anche di altri mezzi di informazione come merce di scambio. Quindi non possiamo lasciare agli editori, come dire, l'accesso a questa professione. E allora alla politica, diciamo, bene, politica, smettete ai politici, smettete di essere contigui con gli editori, smettetela di considerare il giornalismo come un'ancella, una costola della politica, perché i giornalisti hanno bisogno di indipendenza, di autonomia, perché così funziona e così deve funzionare una professione volta a creare consapevolmente coscienza nell'opinione pubblica. Anche perché gli unici provvedimenti del legislatore non possono essere quelli che prevedano il carcere nel caso della diffamazione a mezzo stampa. Sì, diciamo che tutte le nostre proposte ventennali, ripeto, l'ultima che abbiamo fatto di riforma del nostro ordinamento professionale è del 2010, sono cadute completamente nel vuoto perché mettevano, come dire, il dito nel vero problema, il nocciolo della questione e la democratizzazione dell'accesso. Per cui dateci le università e noi discutiamo dell'abolizione dell'ultimo. Ecco, che cosa si sono limitati a fare quando hanno messo mano legislativamente alla nostra professione? All'introduzione, se ne è parlato, per fortuna poi questa cosa non ha avuto attuazione, ma è stata lì lì per essere approvata, il carcere per i giornalisti in caso di pubblicazione, in caso di violazione di segreto istruttorio, ma anche altre cose restrittive, capestro, che non è stato possibile assolutamente condividere con la politica. E noi ci siamo battuti e ci batteremo ogni qual volta. Loro cercheranno in qualche modo, uso un termine brutto, anche estremo, di imbavagliare la stampa. Forse non è di questo che si tratta, comunque di condizionarla fortemente, più di quanto oggi non sia condizionata attraverso il precariato, attraverso altre forme come i finanziamenti pubblici. Insomma, il giornalismo, l'informazione nel nostro paese ha un grande bisogno di autonomia e di indipendenza e i politici rispetto all'informazione devono fare non un passo indietro, due passi indietro, perché poi con gli editori, nell'ambito delle relazioni industriali, i problemi ce li vediamo noi, ce li risolviamo noi, a livello contrattuale, ma anche a livello di problemi più importanti che riguardano il pluralismo dell'informazione e quant'altro. Però la politica, in qualche modo, deve assolutamente sciogliere questo legame storico, purtroppo, in Italia, con l'informazione che ha rappresentato una pastoia, più che un elemento di crescita dell'informazione. E se è possibile frequentare meno i salotti dei talk show, e più le trasmissioni di approfondimento, che pure ce ne sono? Sì, e diciamo che questo modo di fare informazione, questa spettacolarizzazione dell'informazione ha tirato fuori, c'è anche un neologismo, infotainment, informazione e intrattenimento. Sta comportato e ha comportato notevoli problemi all'informazione, comunque al giornalismo, ma il primo aspetto rilevante che ha, in qualche modo, prodotto questo nuovo modo di fare informazione è il disamore da parte della gente. La gente non condivide più la spettacolarizzazione dell'informazione e si orienta sempre più verso quei programmi, che giustamente lei diceva, di approfondimento, perché in una situazione come quella che viviamo oggi, soprattutto nel nostro paese, in Italia, dove la televisione è, come dire, l'elemento fondamentale per la formazione dell'opinione pubblica, perché noi in Italia leggiamo poco, si vendono 4 milioni e mezzo di quotidiani, quindi, come dire, rispetto alla classifica europea siamo veramente agli ultimi posti, però siamo grandi fruitori di questo mezzo, del mezzo televisivo. Io dico che anche i giornalisti, quindi come lei, come altri giornalisti che hanno, non più importanti, ma che possono svolgere questa attività in mezzi di informazione a carattere nazionale, devono porsi il problema che la superficialità, la spettacolarizzazione dell'informazione, non fa crescere l'opinione pubblica, fa disamorare la gente dalla politica, perché poi parliamo prevalentemente di comunicazione politica, e la gente si rifugia sempre in più in prodotti di nicchia, dove l'approfondimento, l'investigazione e quant'altro la fanno da padrone e dove i giornalisti riescono a portare fuori la notizia, la notizia vera, che è quella cosa che qualcuno vuole sempre tenere, come dire, nascosta. Sì, poi c'è fame di buona informazione, vediamo quello che è successo per esempio in occasione dell'elezione del Presidente della Repubblica, c'è stato chi come Mentana ha fatto una non stop da mattina a sera, il servizio pubblico magari invece si è un po' distratto in quella circostanza. Sì, anche su questo il servizio pubblico va riconsiderato, va rivisto, il servizio pubblico non può essere la rincorsa alla televisione commerciale, ma non perché il facile argomento paghiamo il canone, quindi la televisione deve offrirci dei modelli di informazione uguali a quelli della televisione pubblica inglese o uguali a quella della televisione pubblica di altri paesi del nord Europa, non è tanto questo quanto il fatto che servizio pubblico significa mettersi nella scia del diritto fondamentale delle persone a ricevere un'informazione completa, obiettiva e imparziale. Questo è l'elemento fondamentale. Allora non possiamo assistere come oggi assistiamo a una suddivisione delle tre reti pubbliche a pannaggio di tre diverse coalizioni, prima erano tre diversi partiti, adesso abbiamo due coalizioni più altri movimenti. Questa suddivisione è anacronistica, non regge più, la gente lo ha dimostrato con le elezioni che la televisione pubblica non fa più opinione pubblica, non crea più consenso perché la gente non va a votare, perché la gente ha capito che questo tipo di informazione è controinformazione, è disinformazione. Bene, noi ci fermiamo solo per un attimo con il Presidente dell'Ordine dei giornalisti, torniamo subito dopo la pubblicità. Tentazioni d'epoca antichità, il più grande centro di antiquariato d'Abruzzo è a Raiano, mobili, oggettistica, dipinti, Sheffield, liste nozze, consulenze d'arredo, restauri, oltre 500 metri quadri di esposizione con mobili italiani di importazione diretta da tutta Europa. Pezzi originali a prezzi eccezionali, tentazioni d'epoca antichità, zona industriale, Raiano. Al Ristorante La Maestria, qualunque vostra cerimonia sarà indimenticabile. Luogo incantevole, con ampio salone e stupendo giardino per il buffet e le foto. La professionalità e la cortesia del nostro personale renderanno la vostra festa unica, curando ogni minimo particolare. Ristorante La Maestria, via Santa Lucia, strada per intro d'acqua. Telefono 0864 47 154. La nostra esperienza a vostra disposizione. Il Largo Mercatello 20 a Sulmona, Tiffany. Diamo luce alla tua voglia di musica, cinema e divertimento. CD, DVD, film, videogiochi e il vinile da collezionare. Ti illumina? Bring the action. Il Largo Mercatello 20 a Sulmona c'è Tiffany Luce, lampade dintorni ai miglior prezzi. Ti illumina? Con Stefano Vallotta, presidente dell'ordine di giornalista Abruzzo, abbiamo detto l'accesso alla professione con la laurea, quindi con una certificazione ufficiale e poi c'è il problema soprattutto della formazione per chi è già giornalista, quindi una formazione obbligatoria permanente come avviene per gli iscritti a tutti gli altri ordini professionali e soprattutto la questione dell'equo compenso perché nel nostro mondo c'è troppo precariato e c'è soprattutto un rimborso che è assolutamente insufficiente. Questo del precariato è un problema serio perché ormai questa professione per scelte degli editori in modo particolare ma anche per effetto della crisi economica si sta precarizzando anche se il processo di precarizzazione è in corso ormai da diversi anni anche quando non c'era questa crisi così profonda che ha in pratica falciliato la pubblicità soprattutto per i giornali, soprattutto per la stampa, per la carta stampata. È un processo, questo che fa comodo agli editori perché gli editori, chi imprenditore non farebbe comodo avere un esercito di persone di riserva da utilizzare in qualsiasi momento per abbattere i costi del lavoro o anche come elemento di pressione nei confronti della politica per politiche di abbattimento del costo di lavoro. Però questo si ripercuote, lo dicevamo prima, sulla qualità dell'informazione. È un'informazione precaria, precarizzata, è un'informazione di scarsa qualità. Quale autonomia può avere un ragazzo, un giovane che percepisce 5 euro a pezzo o 250 quando va bene, euro al mese? Sarà un soggetto, sarà una persona che può avere la schiera dritta quanto vuole ma i condizionamenti saranno fortissimi, i condizionamenti ma anche i ricatti. Per non parlare poi delle querele, un altro strumento che si usa come censura, come sistema di censura ormai per l'informazione nel nostro paese. Un giovane che si vede querelato con una richiesta milionaria di risarcimento per via amministrativa. Ma come può fare svolgere serenamente la propria professione? Quindi questo è un vero problema. L'altra questione è quella della formazione. Più che della formazione è l'aggiornamento, per così dire. Io ritengo che noi giornalisti dobbiamo scendere un po' da questo piedistallo perché non ci possiamo considerare tutologi, padroni di tutto lo scibile umano. Abbiamo anche noi bisogno di studiare, di leggere, di aggiornarci perché la complessità lo dicevo all'inizio non smette mai di essere sempre più complessa e quindi abbiamo sempre bisogno di ulteriori elementi di decodifica altrimenti la nostra professione sarà una professione destinata al fallimento senza aggiornamento. Comunque a trasformarsi meglio con queste nuove tecnologie che ormai cominciano ad avere già più di 10-15 anni. Quanto inciderà la rete? Quanto conta essere giornalisti oggi nei nuovi mezzi, nei social network in particolare? La rete sta, io credo, aiuterà molto la crisi dell'informazione e dell'editoria nel nostro paese. Però la rete non è il taumaturgo che tutto risolve e che tutto... La rete ha bisogno di contenuti, per cui la rete è quello che tu ci metti dentro, sono i contenuti che ci metti dentro. Per cui pensare ad una rete evoluta, tecnologicamente evoluta, a social media assolutamente di grande contenuto tecnologico, però poi con contenuti concettuali di basso livello significa riproporre uno schema già visto. E allora abbiamo bisogno anche lì di crescere sia nell'utilizzo di questi nuovi media, sia delle implicazioni che essi comportano. Quindi la conoscenza da parte del giornalista dell'implicazione e della penetrazione del social media è un elemento importante. E poi, ripeto, alla base di tutto c'è le cose che noi riusciamo a metterci dentro, perché non può essere considerato internet o comunque le nuove tecnologie non possono essere considerate come una sorta di ricettacolo di tutta l'informazione possibile e immaginabile. Più spesso di una valanga di insulti, tant'è che anche prima parlavamo di Mentana, ha deciso di cancellarsi da Twitter proprio per questi insulti anonimi che riceveva. Insomma, la cosa penso ci debba un momento far riflettere. Ma guarda, le leggi, internet non ha bisogno di ulteriori leggi, perché chi scrive, chi insulta su internet è passibile degli stessi reati che commessi con il mezzo della stampa tradizionale. Quindi si tratta di applicare le leggi che già ci sono. Peraltro, con internet le cose sono ancora più facili, perché è molto più agevole identificare la polizia postale. Non fa grande difficoltà a individuare chi poi veicola insulti, minacce e quant'altro. Però non è questo la rete. La rete è la capacità di condividere contenuti, la capacità di mettersi in rete con soggetti che condividono gli stessi interessi, gli stessi ideali, ma capacità, facilità di... Pensi lei quanto era difficile fondare un giornale fino a qualche anno fa. Oggi lo si può fare tranquillamente online, per cui chiunque può dire le cose che intende, veicolare i contenuti che intende portare. Quindi si tratta, come dire, di applicare le leggi che ci sono per quanto riguarda internet. Non ha bisogno di ulteriori regolamentazioni, perché questo è un nervo scoperto. Parlare di ulteriori regolamentazioni per quanto riguarda i social media può essere pericoloso e può essere tacciato chi la propone di censura preventiva, ma anche di censura to court. E credo anche l'ordine debba, anzi già si sta confrontando anche con queste che sono, questi nuovi, chiamiamoli ancora, nuovi mezzi di comunicazione. Presidente, comunque lei ormai è arrivato, ha fatto una discreta esperienza alla guida del nostro ordine. Un'ordine regionale... Sì, per la verità dopo un certo numero di anni comincia a diventare anche fastidioso vedere sempre la stessa faccia o le stesse facce alla guida di un ordine professionale. Ho riproposto la mia candidatura perché è arrivata questa sfida importante che è la formazione permanente, perché come lei sa, la deontologia professionale è passata, non è più, non compete più all'ordine, al consiglio dell'ordine, ma c'è un organismo terzo, il cosiddetto consiglio di disciplina che noi abbiamo di recente proposto alla nomina della magistratura e che la magistratura ha provveduto a nominare. Dicevo, abbiamo soltanto ormai questa competenza della sfida della formazione. Lei si ricorderà che io sono stato uno dei pochi presidenti che ha cercato di portare una scuola, surrettiziamente, scavalcando la legge, di portare una scuola di giornalismo in Abruzzo ed siamo riusciti a farla a Teramo qualche anno fa. Per cui è un mio pallino quello della formazione, per questo ho accettato di riproporre la mia candidatura per i prossimi tre anni, proprio per portare a compimento questo percorso che avevo già iniziato qualche anno fa. Bene, turno elettorale il 19 maggio con eventuale ballottaggio il 26 maggio per i giornalisti di Abruzzo. Vero, il 19 maggio e quindi io spero che la categoria risponda a pieno a questa tornata elettorale perché anche questo è un modo per manifestare l'attaccamento a questa professione che, lo diceva lei all'inizio, oggi non godiamo di grande popolarità rispetto ai cittadini. Credo che il Censis, quando ogni due o tre anni fa il rilevamento sul gradimento delle professioni, la professione giornalistica viene considerata agli infimi posti. Allora si tratta in qualche modo di avviare un processo di rinascita, ricrescita di questa professione che non può avvenire sulla base della formazione, della qualità dell'informazione, dell'abbandono, della spettacolarizzazione e del rispetto della verità sostanziale dei fatti. Io direi dell'equo compenso, Presidente, perché è un tema caro soprattutto ai giovani che si avvicinano alla professione. Questo dell'equo compenso, cioè di dare un giusto, un giusto, equo, equo compenso ai collaboratori precari, è un problema serio. La legge c'è. Chiediamo alla politica di riunire questa commissione che deve stabilire il quanto dell'equo compenso. Gli editori sono fuggiti da questo tavolo e la politica si nasconde dietro il dito che gli editori sono fuggiti. Costringete gli editori a tornare al tavolo e la politica può costringere gli editori a tornare al tavolo e solo la politica può farlo. È un modo anche questo per aiutare un'informazione di qualità e, come dire, anche una coscienza popolare, un'opinione pubblica che riacquisti fiducia nella politica stessa. Bene, al volo ricordiamo anche la possibilità, che ha offerta ai pubblicisti oggi di poter transitare. Sì, questa è una delle cose che ha approvato di recente il Consiglio nazionale. Ci sono quei colleghi precari che vivono esclusivamente di questa professione e che da anni fanno i pubblicisti. Lei sa che il nostro ordine è diviso in due elenchi. Uno dei professionisti che fanno esclusivamente questa professione è i pubblicisti nato in origine per coloro i quali svolgevano anche altre professori, altre intellettualità, per esempio professori, farmacisti, avvocati, che potevano anche accedere all'ordine professionale. Col passare degli anni il pubblicismo è diventato una porta di accesso al professionismo e però è rimasta chiusa quella porta che bisogna aprire per i giovani che svolgono esclusivamente di questa attività e di questa attività vivono. Quindi nei prossimi giorni, subito dopo l'insediamento del nuovo Consiglio, si cominceranno a prendere in considerazione tutte quelle posizioni che si trovano su questa direttiva. Benissimo, allora noi chiudiamo qui, grazie al Presidente dell'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo Stefano Pallotta, grazie Presidente. Grazie a voi per avermi ospitato e ringrazio tutti gli spettatori che ci hanno seguito. Mi associo naturalmente al saluto del Presidente e quindi ci rivediamo su Onda TV con Diario di Bordo. Buonasera da tutti. Telefoniamo Corso Ovidio 213 sul Mona Comunicare per passione Grazie a tutti.